Nell'episodio precedente Emm... se questo è il primo, non è successo niente Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e sono in compagnia di Gioca Alien Ciao a tutti ragazzi Akim Bonanoz Bella raga E Samahel Bella a tutti Ragazzi dove siamo? Che gioco è? Spiegate, parlate, fate qualche cosa Allora, Castle Crusher Perché state rompendo il gioco? Fin qua c'eravamo arrivati E come avevamo annunciato, serie, serie Serie ragazzi, la serie A4 è multiplayer E come da voi richiesto, ma da di richiesto da nessuno sinceramente però C'è da dire una cosa importantissima però ragazzi Siamo in live intanto nel frammento di tempo Ma che cosa dobbiamo fare ragazzi? Cominciamo e si va all'esplorazione Andiamo dai, andiamo, andiamo, andiamo Andiamo ragazzi, pronti? Dem, dem Ricordiamo che questo gioco è favoloso Posso fare, c'è che fa le spiegazioni delle vignette ragazzi? Eh Eh Gio dai Spiegazioni delle vignette Io? Allora praticamente c'è questo mino cattivo No, devi fare, no, no, no Gio, devi recitare La prossima vignetta Andiamo ragazzi, dobbiamo recuperare il diamante Gio, è finita la vignetta Infatti, da molto Ma che ha bisogno di fare? Non lo so Picchiali 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 No, lascia quella nera Ho preso una squadra figa È mio, 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 mio È mio Ragazzi, ricordo Perché non ve l'hanno ricordato Castle Crash Ok, è un bel gioco È figo, veramente Ma all'inizio è moscio Diventa più figo Più avanti Ma siccome non hanno voluto Continuare dal più avanti Abbiamo dovuto ricominciare tutto Rackiepo Eh, sì Per la colpa è di Samahel Esatto Come dice Luke Ma era giusto, secondo me, per voi ragazzi Vedere tutta la storia Quindi seguire la storia del gioco Capire A Kimbo è già salito di livello, ragazzi Ma è normale A Kimbo è un cittone Eh, vai, Gio, Gio, Gio Aiuto Salvami Salvami Ti strappi il reggiseno, Gio Quello era il ciccione che parlava, Gio Tranquillo Comunque sono ancora livello Ok Ehi, ehi Ma perché io mi confondo, PG E mi trovo Mi trovo a picchiare l'aria Ogni tanto Vai, la ciliegia Dai, ma fate schifo Seriamente forci Ah, no, ma è a Kimbo, a Kimbo È a Kimbo, il ciccione di tu Tu l'hai preso, schifetta Io non ho preso ciliegie L'hai preso tu, il mondito Oh, il mondito Oh, ma io faccio l'arma Quella potrantra Quella potrantra La potreschia La potreschia Forza, forza, ragazzi Forza Ce la faremo Ok, vignetta, vignetta No, niente, vignetta No, non c'è vignetta Forza, botte, botte, ragazzi Botte Picchialo, picchialo Sì, sì, vai Ammazziamo tutti Sì Guarda, ci abbiamo un amico albino Ci abbiamo Così, chi è? È il bivoro? Non ho capito No, è albino, è albino Guarda com'è pallido L'albinolefe? No, però non ha io Oh, 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 qua si può comprare la roba, raga Io ho quello che cerchi Sì, ma io non c'ho soldi Ma fate schifo Nessuno di noi c'ha soldi Ma fate schifo Ok Oh, oh, oh Guida uno, guida uno, guida uno, guida uno Vai Sono già sblocato Ah, no, ok Vai, Gio Andiamo avanti, picchiamoli Non c'è nessuna vignetta, Gio Appunto, quindi Che caspita Vai, tutto a terra Ma è così forte? Eh, all'inizio sembrava di sì Dai, andiamo Nice Nice Oh, nice E sono felicio Dai Aia E io colpisco il vuoto proprio Oh, le Eh Voglio le modette E io chi è che ero? Il verde? Ma io Io non mi ricordo che cazzo di colore ero Comunque, ragazzi Tu sei il giallo No, lo so Ma mentre nel combattimento Ah, sì Eh, non si capisce Sì, perché nel combattimento Poi ci si incastra un po' tutti Ah, io sono la rossa Però ricordiamo, ragazzi Che è pro questo gioco E' veramente divertente No, ricordiamo, ragazzi È veramente figo Però non costa neanche tanto Solamente 18 No, quindi è 72 euro su Steam Ma cosa dici? Ma dove sono? Io non mi vedo Ah, ok Comunque, ragazzi Per chi volesse cominciare a giocare con questo gioco È consigliatissimo Ma proprio tanto Usare il joystick Sì, ragazzi Il joystick Sono io l'unica che usa la tastiera Il joystick è veramente fondamentale Perché ecco Il joystick è veramente Figo giocare Perché Ci si stanca meno Di tastiera e mouse E sono più facili Soprattutto i comandi Sono io l'unica che Gioca con la tastiera Ragazzi Mi venite d'accordo o no? Mi venite d'accordo Sì, ti veniamo d'accordo Gio, cosa gli stai facendo a quello? Ah, ok Oh, ma sei sempre tu, eh Oh, aiuto I pellegrini I pellegrini I pellegrini, no I pellegrini, no Aiuto Alla rimbaggio Oh, nessuno è salito di livello? Che bello Io quasi Ma come, Akimbo? Ma come siamo a livello 4? Anch'io quasi Come livello quasi? Ma chi è livello 4? Ma quelli Vada, io Gio, Gio, Gio Oh, attenzione Attenzione, ragazzi Attenzione Dov'è a Gio Che li scroppano in Giseno? Non c'è È sempre lui che parla Aiuto Ah, è il boss, raga Dai, dai, dai Dai, dai, dai Adosso Infatti Chi è che si ricorda com'era Uno a combinazione di Akimbo, signori Ah, ah Un salito di livello Mi son perso Ragazzi, io non so dove sono Non sto scherzando Eh, sei Lo stai picchiando da davanti Lo stai picchiando violentemente Olè Mi ha schiacciato Mi ha schiacciato Aiuto Aiuto Di nuovo Dai che è quasi moruto Dai, mi sono preso Moruto È moruto È moruto Hai preso la Willite No, no, no Dai, addosso Bella Nice È mio, è mio Il giro Il giro, il giro, il giro Dai Akimbo Me lo lascia Akimbo Ragazzi, Akimbo è un gemma grabber Ovvio Raga, ma che intorno a posto livello di finire l'episodio Come vuoi? Ricordiamo inoltre che siamo in live Salutiamo i nostri amici del live Salutiamo tutti i ragazzi che ci seguono in live Per chi non lo sapesse su YouTube Di venirci a trovare in live Intanto in tanto Ho buttato giù un albero E come ho buttato giù un albero? Akimbo come ha fatto già a salire di livello? Anche io sono salito di livello Ma ragazzi Ve l'ho detto che citta in qualsiasi gioco Akimbo Ma invece di parlare a vanvera Guarda anche giù Oh, a parlare a vanvera Capito adesso addirittura Solo perché lui è salito di livello Gli altri no E chiedono E parlare a vanvera signori Sì, sì Adesso litighiamo anche Mentre giochiamo Dai, dai Dai, picchiatemi Oh, quello dorme Cosa cazzo dorme Oh, non dormire Non si dorme Ma ci salire di livello Mio, 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 mio Lo prendo io Lo prendo io La monetina I pesos I pesos Dai, dai Andiamo, 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 andiamo Andiamo, andiamo Andiamo No, dove vado Ah, sì Gio 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 Vignetta 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 Non c'è Vignetta Dai, 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 dai La mia banana La mia? Gio La mia Dai, eh Non ho detto la mia banana Avete sentito tutti Anzi, direi sotto il video di scrivere gg banana Picchia la porta, picchia la porta Ok, vai Bene Vignetta Nice Oh, nice Oh, nice E a Kimbo non ha cantato Che schifo Livello 2 Ho la combinazione Ah, ah Nuova combinazione E anche Samael Io lo so, ragazzi Ancora io Io ho capito che combinazione è Ah, eccomi Ho capito che combinazione è La, ah, ah Affangula Oh, 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 oh Vai Gio Aspetta, aspetta Devo capire, un attimo Oh, GG, ragazzi Oh, oh La, la Oh, il boss, il boss Ciao Ah Cosa vuoi fare tu? Vai Ma era quello grande Boom, boom Boom, boom Devo strappare le gisie ragio Ma che c***o Eh, Gio È sempre lui Ma è sempre lui Che risponde Aia Mi ha schiacciato Che botta che mi ha dato È il vero che ride Dai, picchiatelo Ma state facendo qualcosa Aia Non lo so dove sono io Ragazzi Mi ha spinto da qualche parte Mi sono perduto Io nemmeno Aia Mi ha schiacciato Ripigliati Guarda che sta ridendo Ti ride in faccia Luca Dai, lei che è morto Lei che è morto Sì, proprio Come no Via Strozzatelo Dai, dai che è morto Dai che è morto Guarda la lingua Guarda a giocare Aiuto Io sono infilato dentro un coso Io dove sono? Ok Ma io che sto picchiando ragazzi L'aria sto picchiando Da mezz'ora Sì, abbastanza l'aria Guarda, guarda, guarda Guarda i numeri Ragazzi Siamo in gamba Forza, forza ragazzi Forza Sì, ma qui ci dobbiamo Mia, mia, mia Sta bevendo Occhio, occhio Oddio Ha ruttato ragazzi Salute Aia Oh, io sto morendo Non vi faccio pena No Oddio, le capriole Sono perso Attenzione al rutto Oddio, che schifo Sta per scorreggiare Nice, nice Piccolo, piccolo Aia, ma vola Ma vola Ma ne 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 Lo sto ammazzando, eh Dai Oh no, non ero io Che devo fare Nice GG Nice GG Ragazzi Oh, 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 oh Oh, oh, oh È mio È mio 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 Mio, 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 mio Qualcosa mio Qualcosa me Ah, no Ma dai Ladri Mia manettina Ok Siamo pronti Sì, ma Bastardi Non c'ho vita Bastardi No Eh, sono morto Già Ciao No No, no No Akimbo fa le mosse tattiche Ragazzi, guardate Non mi fa neanche gazzare Sono morto No, Akimbo, no Era giova, eh Non ero io Ero io Lo fanno No, Akimbo Conto Samael Chi vincerà questo duello Intanto vediamo Samael che si difende Col suo beleno No, 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 no No, no, no No, no, no E Akimbo vince 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 Personaggio sbloccato L'uomo grigio Allora, ragazzi Oh, oh, oh Forza E magia Eh, sì Vai Akimbo Allora Due di forza Ah, però ragazzi Akimbo quattro Sì, vabbè E io vado anche di forza e magia Oh, io sto registrando Quindi poi vedrai Se cito o meno Ragazzi Questo era Castle Crusher A quattro Grazie a Joe Akimbo e Samal Per la compagnia Grazie a tutti i nostri amici live Che hanno seguito Sia questo momento in live Poi lo guarderanno anche su YouTube E metteranno anche i pollici Metteranno anche i pollici in su Ai quattro video Perché sennò Li abbiamo già minacciati di nascosto Ragazzi Ci vediamo al prossimo video Spero vi piaccia questa serie Commentate Iscrivetevi Eh, tanti pollici in su Un bacione Un abbraccio come al solito Da Luke e tutto Da tutti i loro no Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Ciao ragazzi Ok Poi dovrebbero scegliere il materiale Buonasera Niente Poco tempo fa Esattamente Una settimana fa Più o meno Easy Poco tempo fa Iscrivetevi Poco tempo fa Tanto tempo fa L'amore Poco tempo fa Lo Quasi